La Casa della Salute raccoglie e integra servizi di vario tipo e quindi deve diventare veramente il primo punto di contatto del cittadino con i servizi dell'assistenza sanitaria di base e quindi del sistema sanitario nazionale. Il punto unico di accesso è uno degli elementi importanti per la gestione di un percorso appropriato, per l'orientamento, per l'informazione. La cosa importante, la cosa diversa è la presenza dei medici di medicina generale che lavoreranno sulle patologie croniche. Si tratta di un cambiamento importante per i cittadini. I medici di medicina generale lavoreranno in team con infermieri dedicati e i pazienti con patologia cronica verranno chiamati, individuati negli ambulatori dei medici di medicina generale o dal team e verranno inviati all'interno della Casa della Salute per effettuare un percorso che non è solo di approfondimento diagnostico o terapeutico ma è anche di prevenzione. Grazie